Promuovere la cultura della vita e la natalità riportando al centro l'importanza della vita che nasce è stato il tema promosso dall'Associazione Medici Cattolici di Trani e Biceglie nella parrocchia dello Spirito Santo a Trani, presente anche Monsignor Leonardo D'Ascenso, arcivescovo della Diocesi. È un tema centrato sulla cultura della vita, ma proprio quest'anno a febbraio la Conferenza Episcopale Italiana nel suo messaggio per la giornata nazionale della vita ha voluto sottolineare questo aspetto, l'importanza del recuperare, di aiutare la nostra società a maturare sempre di più una cultura della vita, perché si registra, ahimè, troppe volte una cultura della morte. È vero che viviamo in un tempo dove le difficoltà non mancano, problemi di diverso genere, a volte situazioni difficili, sfide che sembrano insuperabili, di fronte alle quali poi la risposta è quella di dare morte, ma la morte non può essere una soluzione ai problemi. Dunque è da sviluppare, come dicevo, un recupero della cultura della vita, quindi l'accoglienza della vita nascente, l'accoglienza della vita in ogni momento, in ogni stagione, in ogni situazione, perché la vita bisogna riconoscerla sempre come un dono, un mistero grande, prezioso, che va accolto, va accompagnato, va difeso.